E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare un po' di analisi tecnica andiamo a vedere un po' quella che è la situazione dei mercati una situazione in realtà che abbiamo visto di correzione serale soprattutto perché è un drop che è partito un po' nel pomeriggio dalle ore 14 in poi ma andremo ad approfondire il tutto perché il tutto rimane comunque abbastanza tracciato prima però vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e qualora questi contenuti appunto vi fossero di interesse ricordatevi anche di iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati ragazzi basta partiamo direttamente a parte che tutti i link io ve lo ricordo sempre li trovate qui sotto in descrizione Bing, Bond, FTX, Binance, di tutto e di più ricordatevi che se vi iscrivete da lì mi aiutate col canale in più ci sono delle promo esclusive che vengono ogni tanto agganciate quindi se lo fate meglio in più trovatemi anche su Instagram, Twitter eccetera perché in questo periodo estivo non essendo in ufficio il modo di arrivare a voi velocemente se c'è da darvi qualche aggiornamento Bitcoin cosa ha fatto? Io vi sintetizzo un po' tutta questa action con un'idea cioè quella di non aver perso questo bottom qua ok? questo è la cosa più importante in questa prima fase perché? perché in realtà abbiamo mantenuto in questo modo l'up trend ok? non stiamo ancora andando a correggere sotto questo bottom bottom abbastanza importante perché si parla dei 43 e 8 ed è un livello in cui ci siamo avvicinati in maniera molto pericolosa ma siamo stati acquistati giusto giusto prima ovvero a 44 e 2 in corrispondenza appunto di questa candela in realtà il drop si è verificato con dei volumi bearish che sono come vi dicevo inizialmente partiti all'ora e quattora diciamo ha fatto questo bounce bounce che non è stato sufficiente appunto a superare questa parte di resistenza oraria ok? e a quel punto siamo andati a correggere abbiamo trovato inizialmente supporto sulla 200 periodi oraria lì abbiamo ondeggiato per 3-4 ore dopo abbiamo perso nuovamente con un paio di candele con dei volumi molto bearish quelli delle 22 che ci hanno addirittura spinto appunto come vi dicevo prima ai 44 e 5 abbiamo ondeggiato su questa base qua dopodiché abbiamo trovato una candela hammer molto importante perché è quella che ha avuto il tocco più basso cioè il 44 e 2 è stata la candela che abbiamo chiuso con un bellissimo rimbalzo in zona 45 e da lì ora stiamo andando a ragionare 45 e 134 nel momento in cui registro in realtà se andiamo a vedere la situazione a livello daily non cambia molto anzi questo perché? perché fondamentalmente il prezzo sta trovando un attimo di respiro un attimo di respiro che non vuol dire assolutamente nulla se non la possibilità di fare un ulteriore impulso rialzista anche perché ricordiamoci e Fibonacci ha funzionato veramente molto molto bene scusate qua eccomi qua dicevo Fibonacci ha funzionato molto 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 bene perché negli ultimi correzioni mantendosi sopra lo 0,23 e 0,38 ha sempre offerto un ottimo spunto per un ulteriore bull flag in realtà è quello che è accaduto lo vedete anche in questa parte qua abbiamo avuto questo bounce e ci siamo sempre mantenuti sopra lo 0,38 quindi ancora oggi con questa correzione che abbiamo avuto siamo sopra lo 0,38 che è il 44 mila dollari lo vedete in corrispondenza anche di questo minimo qua che vi dicevo sui 43,7 quindi è tutto che si gioca in questa situazione qua perché può continuare tranquillamente il prezzo ora up o almeno stringersi in un equilibrio nel caso appunto non avesse ulteriore spinta e ulteriore appunto violenza rialzista quindi questa può essere la prima il primo target alla perdita dei 43 potremmo tranquillamente a quel punto andare a scendere in questa zona qua e ritrovare supporto sui 42 ok? 42 che poi andrebbero valutati su un eventuale bounce e evitare questo ok? quindi quello che non vogliamo vedere è un ritracciamento a 42 bounce leggero resistenza sui 45 e discesa perché a quel punto si andrebbe a perdere il trend anche daily e quindi si dovrebbe ritornare a ragionare sui livelli inferiori però fino a che vi ripeto rimaniamo sopra lo 0,38 questa è un'altra potenziale bull flag che potremmo andare ad attaccare in maniera molto forte e veloce quest'area qua dei 48 ok? e se andiamo ad attaccare quest'area qui poi possiamo andare tranquillamente a tornare a dei livelli che vanno sopra i 50.000 dollari e sarebbero tutt'altro tutt'altri scenari voglio porvi la vostra attenzione sempre sulla total market cap perché ci si pone sempre poca attenzione a mio avviso ma è molto importante siamo arrivati sempre a 2.05 trillion siamo in fase correttiva stiamo trovando supporto sulla 12 ok? quindi total market cap che comunque conferma una crescita veramente importante del settore e soprattutto sulla dominance che va in una fase nella giornata di oggi correttiva rialzo ok? quindi va a recuperare qualcosina e sul daily sono 3 giornate comunque green che sta andando a chiudere è arrivato uno spike a 45-33 anche la dominance lo vedete si mantiene molto debole perché una dominance in queste condizioni qua potrebbe crescere ancora un pochettino però per andare giù ok? se tracciamo un fibonacci appunto anche qua al contrario potremmo vedere tranquillamente che il bounce non sta avendo una reazione bullish ok? di inversione diverso è se andasse a fare questo ok? però per il momento anche questo non è un sintomo di debolezza anzi per quanto riguarda le alte abbiamo visto le alte un po' più in fomo andare ad avere dei buoni delle candele come quella di oggi tipo su luna che è andata addirittura a prendersi 22-56 ma lo stesso vale per Solana forse ad esempio su Solana era ancora più interessante perché guardate come stanno andando comunque a mantenersi molto forti nonostante questa candela qua di ieri sia stata una candela molto brutta perché candela si chiusa in green ma con una shadow molto elevata questo per farvi capire come in realtà guardate che escursione di prezzo che avete sulla candela avete un 21% 16 dollari di escursione quindi capite bene come in realtà il prezzo sia il mercato sia comunque rialzista perché sui nomi più carichi si stia recuperando velocemente ma come operare con leve elevate in questa situazione possa essere no pericoloso di più per le vostre posizioni quindi mi raccomando quando operate sempre con con testa con testa con testa non smetterò mai di ripetervelo Ethereum contro dollaro è leggermente è leggermente più scarico è andato a ritestare la sua base quindi in questa zona dei 3.000 più che altro i 3.000 sì psicologici non ci abbiamo chiuso mai al di sotto siamo andati oggi a rimbalzare sui 3.052 ma anche Ethereum deve tornare ad avere un po' di spunto dobbiamo almeno andarci a stringere in un equilibrio e cercare di consolidare questi livelli per la prossima leg up ma ovviamente questo chi lo deciderà lo deciderà Bitcoin lo sapete molto bene e ci sono altri nomi che stanno aspettando una mossa anch'esso di Bitcoin che hanno fatto la loro leg up e stanno aspettando ulteriori segnali da Bitcoin quindi riassumendo perché non voglio andare lunghissimo questa mattina perché i concetti che volevo fornirvi ve li ho forniti le chart parlano abbastanza chiaro Bitcoin si sta mantenendo comunque in una zona forte dobbiamo cercare di pompare il più possibile per andare a stringerci almeno in un equilibrio e almeno a consolidare questo livello perché potrebbe dare ulteriore spazio e potrebbe portare maggiore confidenza su quella che è la market cap complessiva altrimenti zone di supporto possono essere i 42 che possono essere delle buone entry anche per un rimbalzo e quindi giocarci subito il long lì altrimenti attendere appunto il movimento di oggi movimento che sarà molto 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 importante per il proseguimento di questa run che si sta dimostrando molto molto interessante soprattutto su alcuni nomi ragazzi io mi fermo non voglio andare oltre vi ricordo come sempre tutti i link in descrizione quindi dateci un'occhiata mi trovate poi su twitter su instagram e quindi abbiamo modo anche di comunicare là qualora appunto questo contenuto vi fosse piaciuto vi invito a lasciarlo per un mi piace iscrivete al canale con la sua campanellina e noi ci vediamo domani con un altro update se non succede nulla di che oggi però giornata molto importante ciao a tutti ragazzi